Forse quel microfono si sente meglio, ma io mi metto un po' di qua. Come vi diceva Jonathan, io mi occupo, sono una genetista, mi occupo del studio genetico delle popolazioni umane, ma non solo delle popolazioni moderni, attuali, quelli che siamo noi, ma mi occupo anche del studio delle popolazioni del passato. E questo è grazie a che oggi esiste una tecnologia che ci permette di estrarre del DNA di questi campioni antichi e analizzarli a livello genomico. Alla fine, io a volte mi chiedo, e tutte queste cose perché le facciamo? E possiamo anche dire che stiamo provando a dare risposta, contribuendo, o in qualche modo facendo un contributo negli ultimi anni, anche abbastanza notabile, alle tre grandi domande di chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. E lo facciamo insieme agli archeologi, ai paleontologi, e noi come genetisti facciamo il nostro contributo in quanto all'estudio del DNA. Il DNA, che è una cosa basica, però forse conviene anche ricordare di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una molecola che si trova nel nucleo delle nostre cellule. È una molecola molto lunga, di 3 bilioni di nucleotidi, 3 bilioni. Quella che si trova nel nucleo, diciamo, è quel DNA che abbiamo ereditato dei nostri genitori, una coppia della madre e una coppia del padre. Ma non è solo nel nucleo che si trova il DNA, lo troviamo anche negli organuli che chiamiamo mitocondrie, che sono gli organuli che si occupano di produrre l'energia della cellula. E anche questi organuli hanno il suo DNA, che è il DNA mitocondriale, e che ha la particolarità che si ereda solo attraverso la via materna. Il DNA che si trova nelle mie mitocondrie è uguale a quello della mia mamma, il suo è uguale a quello della mia nonna, ma anche per i miei fratelli è così, è uguale a quello della mamma, della nonna e così via, sempre nella linea materna. Vi dicevo, la particolarità di questa molecola, a parte che contiene tutta l'informazione per dopo creare le proteine, che stanno alla base di tutti i processi metabolici, biochimici delle nostre cellule, è la sua lunghezza. È una molecola che è composta di 3 milioni di vasi. Quando parliamo di vasi parliamo delle unità, unità di composizione, che sono queste guanine, citosine, timine, adenine. Per farci una idea di quanto si allunga questa molecola, se facciamo un simile con i volumi dei promessi esposi, se noi ci mettiamo a scrivere tutta la informazione che nella forma di adenina, guanina, citosina, ci si trova all'interno di ognuna di queste molecole e ci mettiamo a scriverlo, ne avremo bisogno di 6 mila volumini dei promessi esposi, per scrivere la informazione che c'è all'interno del nucleo di una singola delle nostre cellule. Un altro simile, un po' più computazionale, diciamo. Se mettiamo una persona a lavorare per 8 ore al giorno e a scrivere la sequenza delle vasi che si trovano in questa molecola del DNA, quello che è la nostra informazione genetica, e lo mettiamo a lavorare, vi dicevo, per 8 ore al giorno, questa persona ci impiega 50 anni a finire di scriverlo, calcolando un lavoro da 8 ore. per farvi una idea della complessità di mettere insieme tutti questi pezzi fino a riuscire a leggere la informazione genetica e cosa significa questa informazione. Il primo genoma completo umano che è stato sequenziato si è arrivato al sequenziamento completo nell'anno 2001 e ha fatto la copertina dei Nature, che è una delle riviste scientifiche più importanti al mondo, insieme a Science. E non è per caso che abbiano messo questa molecola nella forma dei mosaico. Se fate caso, ognuno di questi pixel si è fatto della faccia di una persona. Perché quello che, finché riusciamo a studiare questa molecola, di quello che ci stiamo rendendo conto sempre di più, dal 2001 e dopo nei genomi successivi che si sono sequenziati, adesso stiamo parlando già da 15.000-20.000 genomi, e quello che abbiamo trovato è che questa molecola sta fatta a frammenti, pezzi di sequenze, che hanno un'origine temporale e geografico molto diverso. Si può parlare di un mosaico di sequenze che hanno un'origine che è molto lontano di quello della persona di cui stiamo sequenziando questo genoma. E questo capita con praticamente tutte le popolazioni che sono state sequenziate al mondo. Questo che ci sta... di cosa ci parla alla fine? Ci parla dei processi migratori che hanno accaduto nel passato e che ci hanno portato al nostro DNA, al DNA di ognuno di noi, delle sequenze, dei frammenti di DNA che si trovano nell'Africa, si trovano nell'Oriente Medio, si trovano nel centro dell'Asia. E mettendo insieme tutti questi pezzi, stiamo riuscendo a ricomponere anche la storia delle migrazioni umane quando queste migrazioni sono accadute e in che modo hanno cambiato i nostri genomi. Allora, la diversità che si accumula nei nostri genomi non è solo il risultato di un accumulo di diversità, delle mutazioni spontanee, ma anche di una diversità che arriva attraverso questa migrazione e la ibridazione, il miscolarsi con la gente locale, diciamo. Per parlarvi della cosa che ci occupiamo oggi, ma non esattamente di quello che mi occupo io, perché se iniziamo a parlare delle migrazioni che hanno portato a quello che siamo oggi, noi dobbiamo anche parlare delle migrazioni dei primati, dei primi ominidi anche, e purtroppo oggi non riusciamo ancora a estrarre, non so se si potrà mai fare, recuperare DNA di campioni da 3 milioni, 2 milioni di anni fa. Però dobbiamo aver presente che per arrivare alla nostra specie, all'Homo sapiens, il primo passaggio è stato un passaggio migratorio che accade nell'Africa e che non è un passaggio a una distanza troppo lunga, è un passaggio dalle alberi al suolo. Cominciamo a camminare e lì accade circa 6 milioni di anni fa e è il momento in cui iniziamo a diversificarci delle altre specie di primati. Da questo passaggio la prima evidenza che abbiamo è intorno a 3 mila anni fa e sono delle impronte dei piedi che si trovano a Laetoli, nella Tanzania, e sono degli impronti fossili che sono state fossilizzate in un'area dove c'erano depositate delle ceneri. E si vedono degli impronti di questi ominidi che camminavano in piedi, erano bipedi. E questa è la prima evidenza di questa nostra capacità di camminare su due piedi. E a quanto pare, e questo lo dicono gli antropologi fisici, a quanto pare accompagnando a questo bipedismo ha permesso anche di iniziare un sviluppo della nostra capacità encefalica che si è accelerato, si dice scusate se a volte mi mancano delle parole in italiano, però si vede che la capacità craneale ha cominciato a svilupparsi a una velocità che è intorno a 3 milioni di anni fa qua, quando cominciamo a camminare di qua. E dopo c'è sempre un aumento di questa capacità encefalica che diventa quasi quasi esponenziale dall'homo habilis in poi. L'homo habilis camminava su due piedi, però era il primo di questi ominidi che era capace di costruire degli strumenti. E questo è molto relazionato con l'uso delle mani. Dal momento che possiamo camminare su due piedi abbiamo liberato le brace dell'attività motoria. Queste brace, queste mani risultano liberi per esplorare l'intorno, l'ambiente e questo sembra che sia stato anche molto determinante in quanto alla capacità di sviluppare anche la nostra capacità encefalica. Stiamo parlando, ecco, intorno a duemila anni fa. Questa è una ricostruzione di come poteva sembrare l'homo habilis. Stiamo già dentro al nostro genero omo. Inizia qua una seconda migrazione e questa migrazione è una migrazione che porta a questi ominidi fuori dall'Africa. Siamo ancora lì intorno a due milioni di anni fa. la nostra specie non esisteva ancora. Però quelli che vanno fuori dall'Africa fanno parte del genero omo. Allora, prima di noi ci sono state altre specie come stiamo parlando del Neandertal, stiamo parlando del Homo erectus, del Denisova che si trova nella Siberia o del Floresiensis nell'isla di Flores. Questi ominidi cominciano a migrare dall'Africa intorno a due mila anni fa ma quelli che portano a quello che oggi è la nostra specie sembra che in quell'epoca continuano in Africa, si sviluppano in Africa fino a che intorno a duecentomila anni fa, trecentomila anni fa accompagnano i primi fossili della nostra specie dell'Homo sapiens. Di questi reperti vedremo più avanti del Neandertal siamo riusciti a estrarre del DNA e analizzare i suoi genomi anche del Denisova. De altre, per le condizioni di conservazione o per l'antico età che hanno non si dispone di questo materiale. La nostra specie, l'Homo sapiens diciamo che esce dall'Africa in un processo che è la terza migrazione. Fino a qua ne abbiamo tre. Quel cambio degli alberi al suolo, una seconda migrazione che porta altri ominidi del genere Homo a colonizzare l'Eurasia e adesso siamo già in questa terza migrazione che quando il sapiens esce dall'Africa e questa c'è un po' di dibattito in quanto a quando esattamente ha successo questa cosa se è un evento che succede un'unica volta o se invece si è ripetuto in diversi periodi però sembra ci sia un consenso in quanto a che questa prima migrazione accade centomila anni fa. È una migrazione che va verso il ovest verso l'Europa però anche verso verso la parte più orientale dell'Asia e a un certo punto intorno a 20.000 anni fa attraversa l'estretto di Beringia che era in quel periodo più coperto del ghiaccio allora c'era un passaggio verso il Nord America e attraversano qua e riescono riusciamo la nostra specie a colonizzare praticamente tutti i continenti fino alla parte più sud dell'America Latina. Questo che vi faccio vedere qua è una mappa che fa un riassunto di queste migrazioni stiamo parlando però dell'immigrazione della nostra specie del Sapiens che partono dall'Africa che stanno nella peninsula Arabica 45.000 anni fa arriva verso l'Europa ci sono i primi fossili dei Sapiens in Europa che sono stati datati con il carbono 14 intorno a 45.000 anni fa e dopo c'è un'altra via di migrazione che va verso l'Asia verso il nord dell'Asia e attraversa vi dicevo fino all'America alla Sud America questo passaggio accade intorno a 20.000 anni fa ma dopo tutta la migrazione via la costa sembra sia stata una migrazione costiera seguendo questa via della costa e in appena 5.000 anni erano arrivati già alla parte più sud del Sud America è stata una migrazione molto veloce ne sappiamo ancora molto poco di questa migrazione almeno dal punto di vista genetico perché sono pochi i campioni che si siano trovati e da cui abbiamo potuto estrarre il DNA quello che si sono trovati sono più gli strumenti che loro usavano delle evidenze che qua c'è stato l'uomo perché c'è una rappresentazione grafica o perché c'è un strumento che usavano loro ma non tanto perché ci siano dei reperti fossili di uomo ne conosciamo adesso come genomi 3-4 genomi degli americani antichi invece dell'Europa dell'Asia iniziamo a sapere un po' dell'Asia dell'Europa sono stati analizzati oggi già tanti genomi stiamo parlando intorno a 400 genomi antichi dell'Australia non ne abbiamo ancora di questi genomi antichi però sappiamo dal confronto delle popolazioni aborigine dell'Australia quando le andiamo a confrontare con tutti gli altri dell'Eurasia con le popolazioni africane si è stimato che queste popolazioni aborigine australiane sono arrivate in Australia intorno a 50.000 anni fa il suo antenato comune sta intorno a 50.000 anni fa era un periodo in cui erano già usciti dall'Africa e sicuramente sono usciti presa questa via prima che prendessero altri la via verso l'Europa perché questo percorso ovviamente è molto più lungo allora qua c'è un po' di dibattito anche se c'è stata un'unica migrazione se sono stati due uscite dell'Africa o quante ci sono stati e in che momento accadono queste migrazioni io a questo punto volevo anche fare una riflessione sul numero sulla popolazione in quanti siamo perché nell'anno 2000 possiamo forse se vedete questa a questa cartina qua i punti colorati vi indicano la densità di popolazione vanno dal rosso al verde dal più popolato in rosso al verde quelle aree zone meno popolate sappiamo che nell'anno 2000 la popolazione mondiale stava intorno ai 6.000 milioni di persone e oggi siamo già quasi nei 7.000 milioni di persone e forse se oggi io vi chiedo di immaginarvi farci mentalmente l'idea di un'origine americana o di un indio americano ci viene in mente un aspetto una persona dell'aspetto simile a questo che vi faccio che vi faccio vedere qua o se pensiamo un asiatico e forse vi viene in mente questi tratti un africano i colori della pelle più scura o un europeo la pelle più chiara i capelli anche più chiari queste sono un po' delle idee che abbiamo di come la gente oggi e come sono distribuite queste caratteristiche però se andiamo indietro e allora torniamo verso 10.000 anni fa che era quel periodo in cui non eravamo ancora arrivati eravamo già arrivati in America abbiamo praticamente 5.000 anni prima avevamo finito di colonizzare per così dire tutti i continenti eravamo sparsi dappertutto però non era quella cartina che abbiamo visto prima le popolazioni si è stimato che il numero di persone che abitavano che esistevano in quel periodo e stavano intorno a 5 o 10 milioni massimo questo incremento della popolazione mondiale accade molto di recente nell'anno 1800 si stimava che la popolazione mondiale fosse da mille milioni di persone e in appena 200 anni siamo arrivati a questi 6.000 che vi dicevo prima e qui possiamo iniziare a fare un po' di conti e dire ognuno di noi nella generazione precedente ne aveva due antenati vero il padre e la mamma in quella precedente ne aveva 4 antenati i nostri i nostri nonni 8 in quella precedente ancora i bisnonni e così via possiamo continuare ognuno di noi a stimare quanti antenati avevamo è semplice come dire 2 elevato a n essendo n il numero di generazioni che ci separano di questi antenati facendo un calcolo nell'epoca di Cristoforo Colombo intorno al 1400 se facciamo che la età media per avere dei figli se hai 25 anni ci viene un numero intorno a 21 generazioni ci separano dei tempi di Cristoforo Colombo e se facciamo quel calcolo dei 2 alla 21 ci vengono già intorno a 2 milioni di antenati diretti a ognuno di noi questi e immaginate continuiamo intorno ancora a fare questo calcolo mille anni prima di noi il numero di antenati continua a crescere e a crescere e a crescere fino a un numero che non è più realistico non c'era tutta quella gente nella terra e molto meno dove abitiamo noi adesso non c'era tutto quel numero di italiani per forza i nostri antenati i vostri antenati non stavano a roberetto né i miei stavano a Pontevedra in Spagna da dove vengo io allora questo già dal punto di vista teorico delle matematiche molto semplici inizia a indicarci che ci sono state espostamenti migrazioni gente che stava in un'altra parte e a noi sono arrivati i suoi i suoi geni e anche ci fa l'idea che tutti noi condividiamo tanti antenati e che basta andare un po' indietro per trovare questi questi antenati comuni che spiegano che alla fine le popolazioni umane di oggi che sono uscite dall'Africa appena centomila anni fa hanno in quanto alla sua genetica la sua composizione genetica sono tutti siamo tutti molto simili e possiamo dire che siamo tutti parenti tutti con la nostra diversità le nostre peculiarità però dal punto di vista genetico molto simili e tanto così che da quando disponiamo di questi genomi quello che si è trovato è che le similitudini sono dell'ordine del 99,9% di tutte queste vasi che formano i nostri genomi la variabilità se noi prendiamo a caso una persona di questa sala e la andiamo a confrontare con un africano che sta in Sudafrica con una persona che sta lì e analizziamo confrontiamo i suoi genomi la diversità sta intorno a una a una base ogni mille vasi è un uno per mille di varianti e questo anche se vogliamo concentrarci su quello che ci fa diversi in certo modo e che ci permette anche di rintracciare l'origine geografica della gente rintracciare la sua popolazione di origine ci troviamo che da tutta quella diversità intorno a un 81% di tutta la diversità possibile nella nostra specie è condivisa tra tutti i continenti e sono poche le varianti che che possiamo identificare con un unico continente diciamo sono dall'ordine dal 0,06 le varianti genetiche che si trovano solo negli europei nella popolazione europea o dell'1% quelli che si trovano solo nell'Asia e che potevano indicarci darci un'indicazione dell'origine di queste persone nell'Africa la diversità propria africana scusate forse mi sta avvicinando troppo al microfono la diversità propria africana è un po' più alta perché tutta la diversità della nostra specie sta in Africa solo un campione di quella diversità è uscito dall'Africa 100.000 anni fa fino a arrivare a noi per forza e per questo che la popolazione africana accumula più diversità allora se a questo punto vi ripropongo quello che vi facevo vedere prima immaginare quali sono i tratti caratteristiche delle persone secondo la sua origine geografica ci troviamo se noi lavoriamo con i nostri stereotipi ci troviamo delle sorprese per esempio se questa ragazza qui a sinistra qualcuno mi dice qual pensa che può essere la sua origine geografica da che paese da che continente viene a vederla semplicemente non abbiamo parlato con lei non la conosciamo però a vederla cosa ci viene in testa da dove può venire questa ragazza dall'Africa invece se vi dico che è originaria delle isole Adamom che stanno lì vicino alla Birmania e non è un caso isolato è tutta una popolazione che sta lì e che sta lì da 50.000 anni fa tra i suoi e i suoi antenati sono stati lì non è un espostamento recente quella donna continuiamo un po' con queste quella donna ancora bionda che vediamo lì dall'Olanda questa donna viene dell'Australia e ha nel suo nel suo genoma dell'antenati aborigini maori aborigini australiani però ovviamente ci sono stati delle migrazioni c'è stato dell'admixture e quei tratti che noi associamo a una determinata popolazione sono cambiati alcuni del recente altri molto tempo fa questo questo bambino bellissimo con i capelli biondi che sono naturali la salomone e siamo ancora continua a sbagliare la tastiera e siamo ancora qui su queste su queste isole in quella che adesso sappiamo che è la via di migrazione più antica della specie umana che li portava che ci ha portato o spinto fino all'Australia intorno e arrivando lì intorno a 50.000 e 40.000 anni fa questi partivano dall'Africa e hanno trattenuto dei caratteri dell'Africa o che noi continuiamo ad associare all'Africa quella pigmentazione oscura questa è una delle spiegazioni che diamo per il suo genoma ci dice queste popolazioni sono qui da tanto da molto tempo fa vediamo questo ragazzo ancora un po' africani all'origine nell'Etiopia l'Etiopia è lì molto vicina già alla penisola arabica anche lì ci sono iniziamo a capire che non sono zone di frontiere queste frontiere almeno in quanto a diversità umana si riferisce non sono così sharp non è una linea è tutta una sfumatura grazie questa ragazzina ve lo dico già fa parte degli indiani americani però ovviamente qua c'è molto admixturricente perché ha dei tratti molto molto europei però nei suoi geni ha anche gli antenati americani indiani americani e questo ultimo signore che abbiamo qua Sud America ci ha mancata questa volta è un Maori un aborigine australiano allora con questo giustizio volevo farvi vedere come quelli stereotipi che abbiamo che a volte funzionano ma tante altre no e per questa ragione che vi dicevo la nostra diversità la diversità dei nostri genomi a tutta una serie di sfumature e anche ci sono stati tanti processi migratori che ci hanno fatto non solo assimiliare geneticamente perché abbiamo un'origine comune molto recente in quello che è la nostra storia evolutiva ma anche perché abbiamo continuato a migrare siamo stati sempre migranti e abbiamo continuato in questi eventi migratori a miscolarsi le diverse popolazioni allora molto difficile in base al DNA rintracciare o assegnare un'origine geografico a una persona e non diciamo solo per il suo aspetto fisico i suoi tratti fisici e da questo che vi parlavo in realtà i dati che abbiamo è basato su quello che sappiamo in base ai reperti fossili e in base all'analisi dei genomi delle popolazioni attuali delle popolazioni moderne oggi come vi dicevo all'inizio abbiamo la possibilità di estrarre il DNA e ricostruire i genomi dei campioni antichi di questi campioni che sono usciti e arrivati in Europa per primi da 45 mila anni fa e è già stato fatto il genoma di alcuni di questi campioni quelli che si sono trovati e adesso abbiamo questo strumento molto potente che è il confrontare questi campioni antichi con i nostri genomi e vedere quanto dei nostri genomi datano o vengono di queste popolazioni antiche quanto di loro è arrivato fino a noi e dove stavano i nostri antenati 10.000 5.000 anni fa il lavoro del DNA antico o i lavori che si occupano di DNA antico sono riusciti a recuperare del DNA di campioni quello più più antico di tutti a 700.000 anni è un cavallo della Siberia e quello dopo diciamo il più antico dopo di quel cavallo della Siberia è un campione di orso da 400.000 450.000 anni fa è un orso delle caverne è una specie estinta e negli ultimi 24-30.000 anni fa siamo riusciti a recuperare il genoma di specie già estinte come il mammut il savertooth il dente di sable o i neandertal la problematica del DNA antico da una parte che non persiste per sempre c'è un limite temporale perché la molecola inizia a degradarsi inizia a rompersi e arriva un punto che di questo DNA non è più rimasto niente o almeno di quel DNA che la nostra tecnologia oggi permette estrarre e sequenziare il limite nel tempo per adesso sta qua in 700.000 c'è anche la problematica questo è un grafico con i reperti che sono stati sequenziati per primi e la maggior parte come vedete sono diverse specie animali per avere un genoma umano abbiamo dovuto aspettare all'anno 2010 e ancora lì ha fatto la copertina dei Nature e questo è un genoma di un palioschimo di un schimo che è da 4500 anni fa questa è l'adattazione delle sue osa e il suo genoma è stato recuperato nel 2010 la problematica a recuperare questi genomi vi dicevo da una parte è che parliamo di una molecola molto lunga che in questi campioni è anche frammentata in pezzettini molto piccoli che facciamo fatica a tenerli nel processo di estrazione e anche a riuscire a sequenziarli ma anche questi reperti sono molto contaminati a volte la percentuale dei DNA originale del campione è solo dal 0,1 0,3 per cento del DNA che riusciamo a estrarre allora quando lo andiamo a sequenziare praticamente il 99,9 per cento delle nostre sequenze sono dei batteri sono dei funghi sono altri animali che sono morti lì però dal nostro campione originale forse ne abbiamo 0 qualcosa la tecnologia e precedimento per l'estrazione hanno migliorato molto negli ultimi anni e questo ha fatto da una parte ci ha dato la possibilità di sequenziare questi frammenti piccoli ma anche ha avassato tantissimo il prezzo perché riuscire a sequenziare una molecola così lunga che è fatta a pezzettine e così scarsa diventa molto costoso allora lì c'entrano anche il solde era una questione anche economica il riuscire a recuperare questi frammenti il primo che ci ha provato era già nel 85 Svante Pavo che adesso è il leader del Match Plant in Germania e hanno fatto il genoma del Neandertal nell'85 avevano provato a fare il genoma delle momie dell'Egitto però dopo quando altri ricercatori sono andati a testare i suoi dati si sono trovati che in realtà il DNA che avevano sequenziato non apparteneva alla momia sino ai propri ricercatori il cui è stato un po' imbarazzante per tutti e lì c'è stato il campo diciamo di studio di sviluppo del DNA umano antico si è fermato un po' perché c'è stato bisogno di fare una ricerca per identificare quali sono le caratteristiche delle molecole antiche che ci permettono di differenziarli dell'ADN moderno perché è chiaro che io se sono nel laboratorio a strarre DNA dei frammenti di un orso antico e quello che mi trovo quando sequenzio è una sequenza di DNA di orso sono abbastanza tranquilla che quel DNA viene dell'orso se invece è un frammento di ossa di un umano e quello che salta fuori è DNA umano forse non siamo così tranquilli forse se lui è un maschio e la sequenzia mente masca questo DNA non è mio però forse era dell'archeologo che lo ha trovato nel sito allora c'è stato tutto un lavoro anche di parlare con gli archeologi di mettersi i guanti di mettersi le mascherine fino a arrivare a questa situazione negli escavi gli archeologi con i reperti umani devono lavorare così e adesso stanno lavorando così ma anche noi nel laboratorio il laboratorio di DNA antico ha bisogno di un spazio chiuso proprio solo per l'utilizzo di questi campioni e così si lavora tutti coperti con doppio paio di guanti quella quella della foto sono io a Potsdam con un pezzettino dell'osso petroso che è un oso dell'oido interno da cui riusciamo a recuperare un osso molto compacto riusciamo a recuperare una percentuale di DNA endogeno del campione molto alto adesso stiamo passando da un 0,2 che vi parlavo prima a recuperare un 50% di DNA di un campione e per questo che ci avvassa tantissimo da una parte ci avvassa il prezzo e così come i prezzi si avvassano per il sequenziamento riusciamo a sequenziare molto di più e a saperne molto di più di questi campioni cosa ci sta cosa ne sappiamo adesso cosa ha aggiunto questi questi studi l'homo rectus l'ho tolto perché l'homo rectus ancora dalla parte del DNA non ne sappiamo niente ma dal neandertal adesso sappiamo che parte del genoma del neandertal è condivisa con noi e lì c'è la questione di se c'è stata ibridazione o no con il neandertal perché in tutte le popolazioni umane tranne l'africana allora in tutti quelli che siamo usciti dall'Africa si trova una percentuale di DNA neandertaliano intorno al 2% del denisova che stavano lì in Siberia di questi non so se avete sentito parlare di questo omo denisovano però in realtà dei reperti osi che si sono trovati sono molto scarsi è un frammento di un osso dei dita della mano e qualche dente e di questi frammenti però si sono recuperati i suoi genomi completi e si è fatto il confronto con i genomi dei neandertal e i genomi del sapiens e si è arrivato alla conclusione di che questa è una specie diversa non appartiene alla diversità del sapiens non appartiene neanche alla diversità del neandertal pure se più vicino al neandertal che al sapiens e allora si è deciso che questa era una specie diversa alla nostra dell'homo floresiensis è molto ricente la pubblicazione di questo genoma dell'anno scorso ancora sappiamo un po' interrogando questi genomi andando a vedere le posizioni che contribuiscono al nostro aspetto fisico adesso sappiamo delle caratteristiche che delle ose non possiamo sapere tipo il colore della pelle sappiamo che i neandertal avevano una pelle chiara che avevano della pigmentazione degli occhi chiari i capelli rossi tutto quello viene dall'estudio dei suoi genomi questo era il genoma del denisova che vi dicevo partendo di questi pezzi di questi denti si è riuscito a ricostruire la sua filogenia identificarlo come fuori alla nostra specie o anche alla neandertaliana in quello che tocca alla nostra specie il campione più antico che si è analizzato ha intorno ai 40.000 anni in altri più recenti che questi che vi faccio vedere qua è un campione mesolitico un cacciatore raccogliettore delle società che non avevano ancora l'agricoltura o la domesticazione di animali e la sorpresa che ci ha dato questo genoma che è stato il primo genoma europeo a parte del palioschimo a essere sequenziato è che questo campione questa persona che si trovava intorno a 8.000 anni fa nel norte della penisola iverica aveva la pelle scura ha un colore una pigmentazione molto simile a quelli degli africani di adesso o delle aborigini australiane anche e aveva gli occhi blu che è una combinazione di caratteristiche che oggi in Europa non esiste diciamo come fenotipo frequente e se si trova molto è poco frequente e anche più delle volte è casi di viridazioni molto recenti questo è una diversità un fenotipo che è stato definito come l'aspetto che poteva avere una persona del mesolitico 8.000 10.000 anni fa in Europa però fino al 2014 ne conoscevamo solo la Vragna negli ultimi anni siamo riusciti a fare i genomi o altri gruppi di ricerca sono riusciti a fare i genomi di anche altri campioni questo è il Cedarman che è stato pubblicato il suo genoma appena il mese scorso però hanno già fatto una ricostruzione di come era questo campione in base alle osa che erano rimaste e anche in base a quello che diceva il suo genoma delle sue caratteristiche e anche questo Cedarman aveva la pelle molto scura del tipo della pigmentazione diciamo le varianti che condivise con quelle delle popolazioni africane e aveva gli occhi chiari ancora come la Vragna allora si vede che era un fenotipo che a quell'epoca in Europa era frequente la pelle scura e gli occhi e gli occhi blu questo mi passo un po' perché ve l'ho raccontato già prima come questi genomi ci stanno aiutando a relazionare la nostra specie con altre come i neandertal e il denisova che sono specie di uomo che stavano in Eurasia quando siamo arrivati noi e si vede che ci sono stati degli eventi di viridazione e che parte di questi di questi genomi sono arrivati anche fino a noi non voglio trattenervi molto perché siamo già quasi quasi in orario però vi parlo un po' delle popolazioni europee che forse per prossimità ci interessano di più e delle migrazioni che cosa ne sappiamo delle migrazioni del passato della gente che è arrivata in Europa e come hanno contribuito a quello che oggi siamo noi in quanto alle migrazioni del passato e questo lo sappiamo degli studi dell'archeologia praticamente la prima migrazione importante è quella che ha portato all'uomo dall'Africa verso l'Europa questo stiamo parlando intorno a 45.000 anni fa una migrazione successiva un evento di migrazione importante è stato quello che ci ha portato l'agricoltura e la domesticazione degli animali e che inizia nell'Oriente Medio intorno a 10.000 12.000 anni fa e arriva in Europa seguendo una via di migrazione molto simile a quella che avevano seguito in questi primi euro che è in Italia Sembra che ci sia stata una via di migrazione nel centro o in nord dell'Europa e un'altra attraverso del Mediterraneo che hanno lasciato dei reperti culturali diciamo che gli archeologi hanno identificato come due vie di migrazione diverse associate a culture diverse però sempre culture neolitiche che vuol dire associate all'agricoltura alla domesticazione degli animali questa era la seconda grande migrazione in Europa la terza la terza viene dall'este sempre viene dall'este però siamo un po' più al nord più intorno all'origine sembra sia stato nell'este peruse intorno all'edà del bronzo si vede che c'è un cambiamento che viene da questa parte e sviluppa quello che in Europa si chiama il cordel wear che è una cultura dell'edà del bronzo in quello che oggi la Germania e i territori intorno questo diciamo che in base ai reperti archeologici sappiamo che c'è stato un cambiamento culturale quanto questo cambiamento culturale sia stato per la migrazione dei idee per dire una trasmissione culturale o per l'emigrazione delle persone se sono le persone che si sono spostate con le sue idee con le sue culture questo l'archeologia non riesce a dirlo lo possiamo dire o iniziare a capire dal momento che riusciamo a analizzare i campioni di questa epoca che sono campioni umani che sono datati a questi periodi e associati culturalmente perché a volte si trovano insieme a dei reperti archeologici che ci dicono a che cultura appertenevano ok quando questo vi parlo ancora della Vragna perché questa è una fotografia dei resti osi di di la Vragna e questo qua questa linea rappresenta il suo genoma il genoma di la Vragna il genoma del Cedarmeng e il genoma di Bichon che è un campione di intorno a 13.000 anni fa che stava in Spezia quando hanno confrontato i suoi genomi la Vragna Cedarmeng e Bichon tutti e tre erano molto simili e a questi genomi li hanno associato diciamo che la sua diversità genetica era molto simile e li hanno associato le possiamo associare un colore le mettiamo il blu andiamo un po' più avanti nella preistoria e andiamo a analizzare ma questo era la Vragna andiamo a analizzare i campioni del Neolitico e parliamo già dei campioni questo l'epoca dipende un po' se siamo all'est dell'Europa il Neolitico inizia prima se siamo nell'Iberia inizia un po' più tarde perché le idee o le persone non lo sappiamo ancora ci mettono un po' arrivare a spostarsi quando però si sono analizzati i genomi questi stavano nella Ungaria nella Germania quando abbiamo analizzato questi genomi quello che si hanno trovato è che sono molto diversi a quelli dei cacciatori recogliettori e quali rappresentiamo con queste sbarre questi sono tre individui e i suoi genomi rappresentati con queste sbarre arancioni a differenza di quelli del Mesolitico invece quello che trovavamo nel Mesolitico oggi nelle popolazioni attuali non si trova questa diversità non la vediamo non c'è una popolazione umana che sia tutta blu i suoi genomi per dire per capirci qua nel Neolitico invece se noi confrontiamo questi genomi con quelle delle popolazioni che adesso stanno nell'Anatolia questa componente che è la zona un po' più in sud diciamo non è più la zona della Turchia però se andiamo nell'Oriente Medio questa componente arancione è ancora lì ma fa la maggior parte se andiamo a analizzare un genoma di quella zona geografica oggi la maggior parte del suo genoma ha questa componente arancione non solo questa però questa è ancora presente è una diversità che non si è persa che sta ancora lì e che rintraccia a questi campioni europei o le colleghe adesso a una popolazione che si trova nell'Oriente Medio che è dove è nata questa cultura neolitica continuiamo ad andare avanti in periodi successivi però continuiamo nel Neolitico nel Neolitico Medio un po' più avanti nel tempo e la cosa curiosa è che in questi genomi iniziamo a vedere che continuano ad essere maggiormente arancioni come i suoi antenati i primi agricoltori però inizia a emergere questa componente blu in alcuno è più presente e in altri un po' meno però è una componente blu che è associata al mesolitico questo cosa ci sta dicendo da questi genomi cosa ci stanno raccontando e queste due queste due distribuzioni che si sono rappresentanti del loro distribuzione che si sono spiegati e questo è di stare di quei isolamenti di quei distribuzioni di altri fili di posti di questi agricoltori che la momento si arrivano a città a quelle distribuzioni locali e le generazioni di Sicile in giulia nel suo genoma fila e le azionate del serbio e della lancione ma che si può fare a venire quindi la sua eredità genomica a compare nel neolitico medio questo viene anche a risolvere una delle grandi domande che avevano gli archeologi questa transizione dal mesolitico al neolitico questo cambiamento di essere cacciatore e recogliettore ad essere un agricoltore è stato un cambiamento culturale o è stato un cambiamento demografico qua questi dati che sono tutti campioni europei ci dicono che è stato un cambiamento demografico è arrivata gente nuova con delle caratteristiche genomiche nuove e le hanno incorporato alle popolazioni locali il terzo fenomeno migratorio era quelli che vi parlavo delle steppe ruse quando andiamo a analizzare campioni di quell'epoca ci troviamo con questa componente verde questa componente verde nei campioni più vicini alle steppe ruse nei campioni antichi del bronze age più vicini a quella zona è molto più alta facciamo praticamente come tutta questa linea in verde quando andiamo a analizzare i campioni europei di quella epoca vediamo che nel suo genoma includono una grande componente verde che viene delle steppe ruse ancora hanno qualcosa dei suoi antenati più antichi del mesolitico e dopo abbiamo l'arancione degli agricoltori allora continuano a incorporare diversità di quelli che arrivano sono popolazioni nuove arrivano continuano a miscolarsi con quelli locali che erano questi qua e continuano a incorporare altre varianti ai suoi genomi che noi vediamo oggi così oggi no questi sono campioni dell'età del bronzo invece questi sono genomi moderni questi sono le antico del più antico almeno antico e queste sono le popolazioni moderne nelle popolazioni moderne praticamente tutta la diversità che abbiamo nei nostri genomi in Europa possiamo rintracciarla a queste popolazioni del passato vediamo che rimane la componente blu un po' dappertutto queste sono le popolazioni dal nord dell'Europa della della Scozia l'Estonia Lituania qua siamo ai francesi e spagnoli qua in centro questi sono i sardi grechi greci anche questi erano spagnoli dal nord spagnoli in generale vediamo che tratteniamo ancora abbiamo nel nostro genoma quella componente blu che viene dal mesolitico abbiamo incorporato la componente arancione una percentuale anche abbastanza grande nelle popolazioni del sud dell'Europa e questa sono loro siamo noi che abbiamo ancora questa contribuzione del neolitico più alta nel nostro genoma e abbiamo incorporato anche la variabilità che veniva con questa ultima migrazione in verde allora possiamo dire che tutte le popolazioni europee tengono nel suo genoma dei frammenti della diversità che arriva da quei primi cacciatori recogliettori dell'epoca del paleolitico del mesolitico abbiamo della diversità che viene da quei primi agricoltori dell'Oriente Medio e ne abbiamo ancora quelli delle stepe ruse e questo cambiano anche le nostre caratteristiche e contribuiscono a quello che vediamo adesso e nel genoma non è che sia così chiaro neanche quali sono i geni dietro a ognuno dei nostri tratti anche perché alcuni dei nostri tratti contribuiscono tantissimi di questi geni che si sumano uno all'effetto dell'altro e non è chiaro non si può fare un collegamento diretto hai questa variante hai questa caratteristica specifica per alcuni si si può fare e allora siamo andati a vedere un po' questi geni nelle popolazioni antiche e nelle popolazioni moderni e quello che abbiamo trovato è con il mesolitico che avevano questa pigmentazione scura per la pelle chiara per gli occhi che oggi però non è frequente in Europa la pigmentazione quando gli europei allora diventano quando compare la pelle chiara in Europa e gli alleli le varianti genetiche associate a una pigmentazione chiara a compare per la prima volta nel neolitico con una migrazione che viene dell'Oriente Medio perché le popolazioni locali da quanto abbiamo studiato adesso non è per caso che se fai quattro genomi tutti i quattro sono della Svezia dell'Inghilterra della Spagna tutti sono scure del Luxemburgo c'è un altro anche pelle scura molto scura iniziano a essere chiari quando arrivano le migrazioni dell'Oriente Medio con l'agricoltura diventano sempre più chiari accumulano varianti genetiche che codificano per una diminuzione di questa pigmentazione quando arrivano le migrazioni dell'este peruse anche questi della componente verde portano le varianti associate alla pelle chiara allora sembra che la pelle in Europa diventa sempre più chiara man mano che arrivano queste migrazioni dall'este un'altra caratteristica che abbiamo visto è la tolleranza al lattosio in Europa c'è gente che ancora non digerisce bene il lattosio e c'è gente che è tollerante al lattosio e non ha nessun problema i cacciatori raccogliettori questi del mesolitico abbiamo visto che uguale che la maggior parte della popolazione africana non ha la capacità di digerire il lattosio e si pensava che questo era un tratto che era stato evoluto insieme all'agricoltura quando iniziamo a consumere a domesticare gli animali e a consumere di più il latte o iniziamo a consumere il latte anche da adulti e si pensava che questo era un fenomeno evolutivo che parte dal neolitico dall'inizio del neolitico invece quando abbiamo studiato questi campioni questi campioni non sono ancora tolleranti al lattosio e sembra che la tolleranza al lattosio arriva solo nell'età del bronzo e arriva associata a quelle migrazioni dall'este dell'este peruse vi parlo di questo ultimo studio che è un studio basato sulla sulla peninsula iberica e ne hanno fatto tantissimi campioni antichi hanno accumulato tipo 300 campioni che vanno dal messolitico all'età periodi storici e qua si vede anche molto bene quello che vi parlavo questa è la frequenza dei geni che permettono di gerire il lattosio e si vede come qua scritto dice mesolitico neolitico età del bronzo tempo storico in Iberia praticamente questi geni che ci permettono di gerire il lattosio queste varianti non iniziano a aumentare fino all'età del ferro l'iron age e la pigmentazione questa è per i colori degli occhi e sembra che intorno dal mesolitico al neolitico aumenta la frequenza delle tonalità più oscure e dopo con l'arrivo di anche altre persone che vengono dall'est aumenta la frequenza delle inizia a crescere ancora la frequenza degli occhi più chiari per la pelle che vi dicevo prima questi sono alleli associati varianti genetiche associati alla pigmentazione chiara della pelle quella che adesso è più frequente in Europa e vediamo come questi varianti che stanno praticamente in due geni quelli che sono più infermativi per questo carattere quelle varianti per la pelle chiara aumentano sempre con il tempo dal mesolitico fino ai tempi sì l'età del ferro qua ai tempi storici lo stesso per questa seconda variante i mesolitici la frequenza delle varianti per pelle chiare era molto bassa e aumenta con le migrazioni sebbene qua nel copper age sembra l'età del bronzo che in spagna nel bronzo no del copper la lama non so come si dice in italiano copper age rama che diminuisca però qua c'è la possibilità anche per la prossimità dell'averia all'Africa che ci sia stata qualche e abbiamo trovato qualche indicazione di una migrazione africana che accade nella preistoria attraverso l'estretto del gilviterra e questa è una cosa che stiamo iniziando a studiare e sì non non mi rara penso che come erario lo lasciamo qua solo dirvi che le migrazioni hanno continuato io vi ho parlato della preistoria però abbiamo continuato a spostarci dall'Europa verso l'America e l'Africa nei tempi in cui abbiamo sportato anche delle schiavi dall'Africa verso il Sud America e tutto questo ha lasciato una impronta anche nei genomi di queste popolazioni americane basta pensare al Brasile basta pensare a Cuba e quanto questi fenomeni migratori adesso ci stiamo trovando anche da fronte a un altro altri fenomeni migratori che comunque vediamo che già da nostri genomi delle studie dei campioni antichi è una cosa che va associata alla storia della umanità siamo migranti abbiamo sempre migrato quali sono le ragioni per queste migrazioni cosa ci spinge ci ha spinto prima a uscire dall'Africa e dopo alle diverse colonizzazioni iniziamo a capirlo adesso perché l'importante in questi studi è anche parlare con altri esperti noi genetisti che ci occupiamo del DNA antico parliamo spesso con gli archeologi però adesso inizia a essere anche molto importante parlare con i climatologi con i botanici che possono anche identificare qual era il tipo di vegetazione e come è cambiato quel tempo e quello che stiamo vedendo è che si sta iniziando a associare queste migrazioni del passato con fenomeni di cambiamento del clima quando l'area geografica dove si trovavano queste popolazioni diventa più arida in un periodo climatologico severo diciamo queste popolazioni devono spostarsi andare da un'altra parte però capita anche in periodi dove il clima è favorevole la popolazione cresce e arriva a un certo punto che si devono anche spostare perché sono in troppi e allora abbiamo visto un po' che questi fenomeni che noi vediamo dei spostamenti sono molto collegati a questo c'è anche la curiosità di esplorare nuovi territori però il movimento di massa di gente vediamo stiamo vedendo sempre di più che va associato a periodi di cambio climatico ecco io vi ringrazio per l'attenzione dirvi che questo è anche alcune delle cose che vi ho fatto vedere ho partecipato anch'io e il lavoro anche di un team di migranti qua vi metto la nazionalità dei miei colleghi al lavoratorio e la maggior parte di questi gruppi sono molto internazionali e niente grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti